L'evento di domenica 1 settembre Interazioni apre un mese particolarmente denso di manifestazioni per la città di Teramo. Sì, praticamente non ci sarà un weekend libero ma si proterrà fino ad ottobre, infatti anche su Sportissimamente stiamo lavorando, proprio venerdì ci sarà una riunione per valutare se farlo nell'ultima settimana di settembre o la prima di ottobre scoglieranno le federazioni. Un mese veramente pieno dove anche degli eventi si sono cavallati e abbiamo dovuto lavorare per permettere a tutti di poter svolgere le loro attività. Poi già la prossima settimana su Piazza Sant'Anna ci sarà un evento molto particolare per il quale faremo una conferenza stampa con un ospite d'eccezione che adesso non posso anticipare, è veramente un ospite molto molto importante. Ci sarà l'associazione Federica e Serena con Marina Rei al chiosso della Madonna delle Grazie, ci saranno degli eventi anche il 14 e 15, stiamo lavorando legati sia a cantanti nazionali e sia al cibo. Ci saranno degli street food sempre a settembre, ci sarà Sportissimamente chiaramente, ci saranno anche altri eventi il 20 e il 21, quindi veramente ogni weekend sarà pieno di eventi in diversi punti della città. In prospettiva però l'amministrazione sta anche pensando a come rianimare un po' la città nel mese di agosto, anche alla luce del fatto che comunque sono state registrate le presenze anche turistiche in città a cavallo di ferragosto. Assolutamente sì, sapevamo che il mese d'agosto se si lavorava in un determinato modo avrebbe potuto dare dei risultati, le presenze che abbiamo visto ad agosto sono il frutto della connessione con i tour operator che c'è stato qualche mese fa, tour operator che hanno portato nella nostra città in visita guidata, quindi accompagnati da delle guide alcuni turisti sia italiani sia europei. Quindi è un lavoro sperimentale che abbiamo fatto nei mesi di aprile e maggio, che ha dato i suoi frutti ad agosto. Stiamo lavorando sui nostri musei, stiamo lavorando sulla capacità di accogliere attraverso visite guidate e pacchetti ad hoc questi turisti e l'anno prossimo cercheremo di offrire attraverso un ente manifestazioni anche una serie di eventi programmati.